Gentili telespettatori, buona giornata. Mal tempo, ancora allerta rossa in Liguria e Piemonte. Alluvioni anche in Costa Azzurra. Caduti oltre 193 mm d'acqua in tre ore a Genova. Numerosi edifici allagati e chiuse alcune strade. I sindaci di Liguria e Piemonte raccomandano, se possibile, di restare a casa. Quindi Liguria e Piemonte stanno affrontando l'ennesima emergenza. In alcune aree della Liguria in due mesi sono accaduti 1700 mm di pioggia, quanti solitamente se ne registrano in un anno intero. Tra Genova e Savona allarme anche a Torino. Tra Genova e Savona torrenti hanno iniziato a uscire dagli argini, mentre a Torino l'allarme si è acuito verso ieri sera, soprattutto a causa dell'innalzamento del livello del Po. Sono stati chiusi al traffico i murazzi e sospese tutte le attività. Sul fiume in basso Piemonte è scattata l'allerta rossa. In 18 comuni dell'Alessandrino, strade chiuse nell'Ovadese e nell'Acquese, dove sono interrotte le linee ferroviarie con Savona. Qui, dopo ore di apprensione, i vigili del fuoco hanno trovato vivo un uomo dato per disperso lungo il Lettimbro. A Genova i primi corsi d'acqua esondati sono stati il Feggino e il rio Ruscarolo in Valpolcevera. In tre ore oltre 300 mm di pioggia. La vallata genovese che non trova pace. Il ponte sul Polcevera era il Morandi ed è stato necessario sospendere i lavori nel cantiere e tutto in sicurezza, rassicura il sindaco Marco Bucci. Non ci sono rischi in prossimità del cantiere, ma nel resto della città smottamenti, frane, strade interrotte, allagamenti, persino all'ospedale di San Pierdarena. Fiumi di fango hanno ingrossato il consueto bollettino di danni e disagi. La massima allerta è stata prolungata fino a mezzogiorno di ieri a Genova e poche ore dopo a Savona. Salvate delle vite nella notte sono state salvate delle vite, racconta l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, riferendosi alla notte tra venerdì e sabato. Sono stati soccorsi tre ragazzi bloccati in auto da acqua e fango e un anziano è stato allontanato dai vigili del fuoco dalla sua casa di Borzoli appena in tempo. Alcune famiglie sono state sfollate su mezzi anfibi. In serata erano una cinquantina gli sfollati, 33 a Genova e nel Savonese, gli altri nell'estremo ponente. Il numero delle persone isolate a causa delle frane è salito a quasi 600, in parte rientrati nelle abitazioni verso sera. Quando piove con l'intensità di questi giorni la Liguia teme sempre il peggio, non solo a Genova. Le raccomandazioni dei sindaci state in casa. Il sindaco di Dego, Francesco Siri, nel suo territorio dove il Bormida è vicino al livello di guardia, ha esortato i concittadini. State in casa, leggetevi un libro. Stessa raccomandazione dal governatore Giovanni Totti. Non mettetevi a rischio. Una frana sulla A10 fra Arenzano e Voltri, mentre molti treni sono stati sospesi sulla Genova Acquiterme, rallentamenti sulla Genova Ventimiglia. La giornata di oggi si conferma a rischio per Liguria e Piemonte. Gli esperti del Dipartimento della Protezione Civile hanno annunciato un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del nord-ovest con precipitazioni intense e persistenti. Dal Po in Piemonte al Bormida in Liguria sono i fiumi a creare il maggior allarme. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà anche al centro-sud Italia. Per oggi allerta rossa in Calabria, previsti venti di burrasca in Puglia e Basilicata. Due dispersi e feriti alluvioni anche in Costa Azzurra. Centinaia di case risultano allagate a causa delle forti piogge che hanno colpito anche la Francia, dove era scattata l'allerta rossa nel pomeriggio di ieri per il rischio di alluvioni. Sono oltre 1.600 i vigili del fuoco mobilitati che hanno ricevuto migliaia di chiamate e hanno effettuato centinaia di interventi da venerdì fino a questo momento. I dispersi sono un uomo di 77 anni e un'altra persona caduta in acqua. Una donna di 39 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata spazzata via da un'onda. Ferito anche un uomo di 78 anni ricoverato in ospedale per ipotermia ma senza gravi lesioni. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, è gratuito e nella community trovate tanti sondaggi dove potete partecipare in forma anonima e anche commentare. Siamo presenti anche su Facebook con la pagina Tele Italia Notizie, dove trovate tutti i video che sono pubblicati in YouTube e li potete assolutamente condividere con amici, parenti, conoscenti sia in internet, su Facebook, su WhatsApp, ovunque voi vogliate. Intanto a Genova c'è stata una frana vicino al cantiere del nuovo ponte. 120 persone sono state isolate. La pioggia battente sta producendo cedimenti del terreno in diversi punti della città. Una frana si è verificata a Genova in Corso Perrone vicino al cantiere di ricostruzione del nuovo ponte. Circa 120 persone sono rimaste isolate. Sempre a causa dei cedimenti del terreno altre 5 persone sono isolate a Trasta in via Mario Adda e 20 a Caranesi in via Rampin. Nel capoluogo Ligure continua a piovere. Vigili del fuoco e volontari stanno intervenendo in diverse zone per far fronte alla situazione critica. Intanto domenica 24 novembre pioverà un po' ovunque con piogge costanti. La differenza rispetto ai giorni scorsi è che sarà così su tutta la penisola e anche in Sicilia, in una situazione in cui mal comune non è mezzo gaudio. La Sardegna è risparmiata invece. Nella notte smetterà di piovere al nord ovest e in Sicilia, ma fino ad allora il tempo sarà lo stesso dappertutto. Ci riproviamo lunedì sperando nel bel tempo. Domani a Milano si prevede pioggia praticamente tutto il giorno con temperature di circa 12-13 gradi centigradi. Mentre a Roma le temperature saranno leggermente più alte, si prevedono 13-14 gradi e dall'una di notte fino alle 10 del mattino si prevede pioggia, poi pioggia con qualche schiarita verso le 13, fino alle 16 non dovrebbe piovere, rimarrebbe nuvoloso e con qualche raggio di sole e poi dalle 19 in poi rimarrebbe il cielo coperto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, è un canale principalmente di politica, ma ci sono tutte le notizie più importanti del giorno, c'è il meteo, il telegiornale e se vi iscrivete nella community del canale trovate tanti sondaggi anonimi nei quali potete partecipare, potete anche lasciare dei commenti e tante altre notizie solo scritte senza che ci sia un video. Mentre siamo presenti anche su Facebook, come cercate la pagina Tele Italia Notizie, dove anche lì trovate tutti i video che sono pubblicati su YouTube e li potete assolutamente e condividere tranquillamente sia in Facebook che fuori da Facebook che su altri social network, Whatsapp e anche utilizzare in qualunque caso voi lo vogliate. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buona giornata e buon fine settimana per quello che rimane. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.